Siamo fuori? Non ancora. L'intera faccia del paese è cambiata. Vinite. Dove? Alla città di abbondanza. Ora siete al sicuro. Ecco. Io sono Gesù Cristo, di cui i profeti attestarono che sarebbe venuto nel mondo. Venite e sentite anche le impronte dei chiodi nelle mie mani e nei miei piedi, cosicché possiate sapere che io sono il Dio di Israele, ucciso per i peccati del mondo. Dobbiamo diffondere la notizia. Andate, dite alle persone che Gesù Cristo ci ha amministrato. Benedetti sono quelli che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Avete dei malati fra voi? Portateli qui e li guarirò, poiché ho compassione di voi. ecco i vostri piloni. Ora ecco, la mia gioia è completa. E se vi ricordate sempre di me, avrete il mio spirito che sarà con voi. Con grande misericordia ti raccoglierò. Osana, Osana, benedetto sia il nome della decisione.